Gianpietro Luciani è capogruppo di opposizione al comune di Castiglione Messerraimondo. Il prossimo anno si vota, il 9 giugno. Che si farà? L'opposizione su chi punta? Di nuovo su Luciani? L'opposizione si sta organizzando. Stiamo vedendo quale può essere la figura migliore da presentare. Io ho già dato abbastanza, perché sono tanti anni ormai che sto in amministrazione. Fa un passo indietro. Sì, sarebbe ora anche per qualche giovane nel caso, se qualcuno si vuole candidare insieme con noi. Quindi stiamo trovando un po' una squadra, di creare una squadra migliore per metterci in competizione con l'attuale amministrazione comunale. Secondo lei come ha operato l'amministrazione targata ad Ercole? Sono sempre l'opposizione, quindi dovrei dire per forza di cose male, male, male. Però essendo obiettivo devo pure riconoscere che abbiamo passato un paio d'anni con il Covid, con grossi problemi. Quindi in quel periodo siamo un po' tutti compattati per cercare di risolvere la problematica. Di sicuro essere stati in zona rossa non è stato un vantaggio, quindi qualche cosa non ha funzionato anche a livello amministrativo. Però superato questa problematica dobbiamo pure riconoscere che anche a livello centrale arrivano contributi, anche in passato, che ne sono alluvioni, nevicate. Quindi il momento calamitoso che è brutto, un periodo particolare per la collettività con tanti morti, soprattutto a Castiglione. Però dopo di seguito si sono ricevuti pure dei contributi che hanno permesso pure di affrontare determinate spese. Riuscirete comunque a fare la lista e a presentare un candidato sindaco, giusto? Stiamo provando, certamente. Non è sicuro? No, il nostro impegno ce la stiamo mettendo tutta per farla. La faremo.